Vice Presidente, parliamo del nuovo progetto della provincia di Teramo, comunità in movimento, portare alle persone in difficoltà dei paesi, farmaci e anche altro. Certo, questo viene chiamato comunità in movimento, abbiamo avuto l'adesione da parte dei comuni del Cratere, di altri comuni tipo Castiglione, Messerra e Mondo. Sarà un call center tramite la Croce Bianca di Montori, un'auto messa a disposizione da loro e si porteranno farmaci, bombo di tossicio e quant'altro agli anziani delle zone montane, quindi che sono in difficoltà. Si farà una pubblicità dentro ai comuni e agli uffici postali dove vanno questi signori a ritirare la pensione e quindi si faranno una richiesta al call center, questa richiesta andrà fatta poi ai medici, passerà l'auto a ritirare la ricetta, passerà in farmacia e porterà il farmaco direttamente a casa. Questo è un progetto che partirà a fine settembre, i primi di ottobre con l'inizio del freddo e durerà per un anno e poi successivamente a ripetersi. Un progetto importante, quant'è il finanziamento? Beh circa saranno 20.000 euro, ci si sono tassati, ringrazio il BIM e ringrazio anche la provincia di Teramo che io rappresento, un po' i singoli comuni per racimolare le somme per pagare l'assicurazione della macchina, spese di benzina e sicuramente una persona che andrà a fare questo servizio. Sicuramente un servizio in più che mancava. Beh io penso che mancava ma bisogna fare delle cose che non ci sono sul nostro territorio perché se facciamo i doppioni non va bene.